La gente si chiede, ma Andrea Cherubini è dappertutto, ha le catene di bar, catene di lavande... Ma che catene? Una catene di problemi? Ah, io lo chiamo Andi, Andrea Andi, Andi rivieni, perché è sempre pieno di impegni, ma qua va là... Dunque, qui siamo davanti a una cremeria che... Di le cornie? Sì, veramente, veramente... Ma poi ci sono delle novità per il 2015 che te le annuncio ora? E poi dopo te ne farò assaggiare una, ma che comunque... Dammi tre novità! Allora, sono una crema alla rum, una alla vaniglia e nota bene Leonardo... Se no a foghi? Allo zabaione! Allora, visto che l'orario a cui giriamo il rum non è adatto, a me piace molto il rum! Sono indeciso tra la vaniglia e lo zabaione! Ma io rimarrei sul nostrale! Un bello ovetto sbattuto! E sai che ho fatto stanotte? Con la rita! E allora che mi consigli? Zabaione! Perché se si deve andare sul chimico l'abbandoniamo, andiamo al naturale! Chilometro zero, ovetto della mamma... Chilometro zero no, perché per farmela dare l'ho inseguita! 20 anni! Avrò fatto, ho finito un pieno! Senti, ci raccomandiamo a Stefano! Ecco, vedi, bravo, bravo! Hai fatto questa cosina sobria! Che è? Giusto! Vedrai che effetto... Ma dopo c'è il caffè in fondo! C'è il caffè in fondo, naturalmente! Ancora una volta con la crema di zabaione! Perché se non ti avesse fatto buon effetto alla prima, il famoso rinculo... Te lo faccio al pezzo! Rinzoprello! Rinzoprello! Comunque, tartocca Rita, eh! Auguri! Con questo! Auguri a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buone feste! Dicevo, per le renne! Se volete fare le renne! Sentite il fidanzato della Rita, che dopo che è venuta con me... La fine ne busco da Andrea, pure a De Zulla! Oh, Andrea! Si chiama Andrea? Ah, come te! È un classico! Tutti le Andrei! Capito? Alla, tu m'abbas! Buon! Grazie a tutti.